Musica Bella lì ragazzuoli Qui il tuo canale Nei quest'oggi sono qui per dirvi Non sono morto Continuerò a fare video Ma dovete aspettare ragazzi Perché in questi giorni Ho degli esami di recupero E quindi non potrò essere presente Non potrò fare video sul canale Quindi questo è solo un video di ragionamento Per informarvi di ciò che sta accadendo Sono stato rimandato in matematica e scienza Quindi Quando uno non si può dare da fare Non si può impegnare Queste sono le conseguenze Quindi ragazzi mi invito A darvi da fare, a studiare E non fare come i sottoscritti Si spera di arrivare in quarta superiore Si spera E boh Non ho altro da dirvi Un saluto da Luca Nane Ciao e al prossimo video Bye bye